Con 19 punti di vantaggio, a 11 giornate dalla fine, lo Scudetto dei Napoli, il terzo della sua quasi centenaria storia, è in cassaforte, tanto che i tifosi, a dispetto della proverbiale scaramanzia partenopea, si sono portati avanti con i festeggiamenti, tappezzando la città di bandiere, striscioni, murales e gigantografie dei prossimi campioni d'Italia. Insomma, in attesa che possano farlo i tifosi, sono le facciate dei palazzi, i vicoli e le strade, a urlare tutta la gioia per un sogno accarezzato per 33 anni e che ora diventa realtà. Intanto, quanto alla festa ufficiale, che si preannuncia memorabile, tanto che neanche i turisti vogliono perdersela, come reso noto dal sindaco Gaetano Manfredi, Palazzo San Giacomo e la Prefettura sono orientati a organizzarla in maniera decentrata, cioè disluogata in più punti della città. È stata una cosa decisa insieme alla Prefettura. Da un lato ci sarà una festa spontanea, dall'altro c'è questa festa, che probabilmente sarà il 4 giugno, che per scelta fatta anche da parte mia coinvolgerà tutta la città. Sarà una festa policentrica, avrà un palco in ogni municipalità, oltre a quello centrale, per il quale si pensa a Piazza del Plebiscito, ha precisato il primo cittadino. Grazie. 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 Grazie.